Siamo invece qui nello studio Alberto Biriaco, Pippo Franchina che si occupa delle relazioni esterne del Catania Calcio. Buonasera Franchina. Buonasera a te Umberto e poi a tutti gli telespettatori e gli amici di Palermo. Soprattutto un saluto particolare a Nino che sempre si dimostra un professionista. Per quel che riguarda la trasferta di Lecce, insomma, soddisfazione sì, ma subito da mettere in archivio perché martedì si torna in campo contro il Novara per la Coppa Italia per guadagnarsi in Milan. Soddisfazione nell'aereo, sull'aereo o ottimismo moderato? Diciamo ottimismo moderato perché in effetti questa è una squadra secondo me che può ambire a questi traguardi, a questi successi e successi ancora più prestigiosi e credo che quest'anno l'ha dimostrato in più di un'occasione. Ovvio che chiaramente è un successo importante che anche per prendere coscienza di quelli che sono veramente le reali potenzialità di questa squadra, ma soprattutto perché bisogna subito chiudere questa pagina e guardare avanti perché come sapete tutti quanti ci aspetta già una partita dopo domani di Coppa Italia. Il passaggio che rappresenterebbe un passaggio di un turno sicuramente andrà a affrontare squadre molto più titolate e che comunque farebbero sicuramente storia per il calcio a Catania, così come l'è stato già in qualche anno fa che siamo arrivati ai quartieri. Rientrando, Barrientos, era felice? Sai, Barrientos è un ragazzo eccezionale da un punto di vista già di educazione e anche comportamentale, è un ragazzo che sicuramente da quando è qui ha sofferto molto, si è allenato, sappiamo tutti quanti che ha avuto più di un problema fisico, l'ha risolto alla grande, è un ragazzo che non si risparmia, è ovvio che chiaramente un gol del genere gli rende giustizia di tutto quello che ha sofferto fino adesso, è un ragazzo che ha delle qualità enormi su cui la società ha creduto, l'ha preso, l'ha investito, sicuramente non l'ha mai trascurato ed è ovvio che oggi chiaramente ci ritroviamo, chi chiaramente magari non conosce bene il ragazzo la percepisce come una novità, come una dieta sorpresa. Dopo la cessione del gennaio scorso, il ritorno in Argentina, qualcuno disse vabbè, è finita l'avventura rosso-azzurra di Barrientos se invece la società che ha sempre creduto in questo giocatore lo ha ripreso e oggi Barrientos comincia a diventare un giocatore importante con quella qualità aggiunta alla squadra. Ma sai, questa è un'ulteriore dimostrazione che quando la società fa degli investimenti e crede in dei giocatori non li fa soltanto per farli, fa con cognizione di cause perché crede fermamente in un progetto su quel giocatore. È ovvio che chiaramente il fatto che ha avuto qualche infortuno magari qualcuno aveva messo in dubbio le bontà e la qualità del calciatore. Oggi credo che per noi non rappresenta sicuramente una novità, rappresenta una conferma di quello che già sapevamo. È ovvio che questo può dare buona auspici per il futuro sia per il Catania che chiaramente per il ragazzo che se lo merita, se lo merita veramente di vuole. Tu hai visto la partita accanto al Presidente, quando ha segnato Barrientos, insomma ce lo puoi svelare, cosa ha detto il Presidente? Qual è stata la sua esclamazione? Ma è ovvio che l'esclamazione del Presidente, che piuttosto di tutti diciamo che eravamo lì presenti, è stata di grandissima gioia anche perché sai al novantesimo tu cominci anche ad assaporare o cercare di portare a casa quello che hai consolidato il pregio. Ovvio che chiaramente la protezza di Barrientos ci porta i tre punti e quindi credo che faccia felice non solo il Presidente ma tutta quanta la squadra, tutta la società. Vorrei sentire Barrientos in particolare sul momento del Catania, Antonietta. Sì, Umberto, sono moltissimi i nostri telespettatori che chiamano e parlano proprio del gol di Barrientos. Alberto ad esempio ci dice che ha sempre pensato che lo Monaco, oltre all'aspetto tecnico, considera molto anche l'aspetto caratteriale dei giocatori che ingaggia. E su Barrientos ha avuto sempre ragione. Prima di ricordare il nostro numero di telefono, vista la presenza di Franchine e studio di giro, una domanda che hanno fatto i nostri telespettatori sulla tessera del tifoso. Molti hanno chiamato dicendo come mai ancora non è giunta la tessera del tifoso, nonostante l'abbiamo fatta già da molto tempo. Ricordo il nostro numero 253497. Grazie. Allora, intanto precisiamo una cosa. La tessera del tifoso è una tessera che viene rilasciata, cioè si fa in sede dal Calcio Catania, si fa la richiesta, e viene rilasciata dalla lottomatica. Le tessere vengono spedite alla banca, quindi di conseguenza chi ha fatto richiesta della tessera del tifoso deve andare a diriderarla in banca, oppure può andare in pressione del nostro ufficio, anche direttamente allo stadio e chiedere informazioni. Ma comunque sicuramente non è una cosa che nel giro di 10-15 giorni si ottiene. Si risolverà. Però in qualunque caso, fin quando arriva la lettera del tifoso, chiunque ha fatto richieste, tu da lato, soltanto dalla semplice richiesta, e con quella puoi accedere tranquillamente, sia in casa che fuori casa. Anche per le partite esterne e per quanto riguarda il settore ospiti, chiaramente. Speriamo dunque di aver soddisfatto le richieste dei telespettatori. Viste dal vivo, insomma, ha provato ancora un'emozione. Ma ripeto, l'emozione, devo dire che è doppia, perché sicuramente siamo consci di aver portato a casa un risultato importante che denota che la squadra c'è, è una squadra che ha dei mezzi che sicuramente può fare bene e l'ha dimostrato quest'anno non solo in casa, anche fuori, ma soprattutto... Ecco, possiamo parlare di un obiettivo un po' più alto rispetto alla salvezza del che Presidente Ulvirenti in sede di presentazione disse 50 punti. Ma Umberto, non sta a me parlare di punti. Io credo che questa è una squadra, sicuramente la squadra più forte fino ad adesso che ha avuto il Catania. Una squadra che è giovane, una squadra che ha le capacità di fare veramente bene, l'ha dimostrato sia in casa, come dicevo poco anzi, che fuori casa. È ovvio che poi, sai, le partite vanno anche giocate. Io che dico sempre una cosa, che a questi livelli qua, sai, si arriva perché hai le qualità. Però è anche vero che poi nelle partite la differenza la fa la testa e le motivazioni quello che ci mette. È ovvio che chiaramente l'approccio a determinate partite forse è quello che poi alla fine ti dà il risultato finale. Qualche partita magari non è stata all'altezza, è ovvio che chiaramente non l'abbiamo portata a casa ben poco. Questo Milan che vince 4-0, insomma, da qui a gennaio c'è tempo. Allora, partita contro il Novara alle 21.15, è confermato. Sì, io direi questo, credo che rappresenta un punto importante su quello che è il percorso della Coppa Italia. Non dimentichiamoci che la Coppa Italia è sempre sicuramente un torneo molto ambito. Noi qualche anno fa, se ti ricordi, siamo riusciti a fare sicuramente molto bene. Non dimentichiamoci che dopo questa partita chi dovesse andare avanti affronterà il Milan a San Siro. Fra l'altro credo che noi abbiamo dei buoni ricordi a San Siro quando abbiamo vinto... Con Mascara e Spinesi, lo ricordiamo. È ovvio che chiaramente mettere a sicuro il superamento di questo turno di Coppa Italia rappresenta una cosa importante. È ovvio che l'aspetto tifosi rappresenta un qualcosa di importante. Ecco, 10 euro in curva, insomma, veramente, si può dire, insomma... Io credo che in questo momento la società, da questo punto di vista, ha dato una dimostrazione che vuole a tutti i costi che i tifosi sicuramente rimangono sempre vicino alla squadra anche in occasione di una partita come questa di Coppa Italia. E credo che è un'opportunità, appunto, per cercare di andare avanti nel migliore dei modi e non portando avanti soltanto il discorso del campionato ma la Coppa Italia che rappresenta qualcosa anche. È importante, è importante anche perché è una competizione che comincia ad entrare nel vivo e peraltro si comincia alle 21.15, come diceva anche Marco Carli, è anche l'occasione per tributare un applauso a questa squadra che ha giocato bene, anche Lecce ha vinto e non sappiamo ancora quali saranno le scelte di Montella. Pablo Barrientos giocherà dal primo minuto, almeno queste sono le informazioni in nostro possesso.